La domanda è semplice, è possibile attraverso l'alimentazione e lo stile di vita aumentare gli estrogeni? Perché gli estrogeni sono ormoni sessuali femminili, sono importanti per la salute riproduttiva, ma influenzano anche altre funzioni nel corpo, sia nelle donne che negli uomini. E vediamo insieme alcune strategie per aumentarli. Gli alimenti che contengono fidoestrogeni possono aiutare a modulare i livelli di estrogeni nel corpo. Questi includono i semi di lino, che sono ricchi di lignani, che sono fidoestrogeni sostanzialmente, oppure soie derivati come il tofu, il tempella, la tè di soia, le damame, che contengono i soflavoni, un tipo di fidoestrogeni, legumi, ceci, fagioli, lenticchie, ma anche alcuna frutta e verdura, mele, carote, bietole, barbo a bietole. E' importante mantenere il peso nella norma, perché un eccesso di tessuto adiposo può alterare l'equilibrio ormonale, mentre un peso troppo basso può ridurre la produzione di estrogeni. Mantenere un peso corporeo sano attraverso una dieta equilibrata e l'attività fisica regolare può aiutare a regolare i livelli di estrogeni. Ridurre lo stress è fondamentale, infatti alti livelli di stress possono alterare gli ormoni in generale, compresi gli estrogeni. Pratiche come lo yoga, la meditazione, le tecniche di respirazione possono aiutare a ridurre lo stress. E poi l'esercizio fisico deve essere regolare, in particolare allenamenti come quelli di forza e l'attività aerobica. Questi possono aiutare a bilanciare gli ormoni. Limitare l'esposizione agli xenoestrogeni, cioè gli xenoestrogeni sono quei composti chimici che limitano l'azione degli estrogeni nel corpo. Possono alterare l'equilibrio ormonale, questi sono presenti un po' dappertutto nei pesticidi che troviamo negli alimenti, nelle plastiche, nei cosmetici, nei prodotti per la pulizia. Insomma, dobbiamo scegliere dei prodotti naturali e quanto più biologici possibili per ridurne l'esposizione. Come integratori alimentari alcuni possono aiutare ad aumentare gli estrogeni, come il trifoglio rosso ad esempio, però su questo argomento è importante consultare un professionista della salute, sempre, quindi non prendiamo integratori tanto per. Metti un bel mi piace, iscriviti al canale se l'hai ancora fatto e fammi sapere se vuoi saperne di più sull'argomento estrogeni. Ciao!